Sì, ma in questo momento non c'è, io sono il marito, vuol dire a me? E dove la posso trovare? Lei è in agenzia in questo momento. Quindi la trovo lì? La trovo in agenzia, sì. Grazie. Salve. Arrivederci. Signora Biasi. Scusi, la signora Biasi? Sì. Ma è lei che ha salvato ieri il mio figlio che stava annegando nel fiume? Sì, immagino voglia ringraziarmi, ma... No, volevo sapere, il cappellino, che fine ha fatto? Sì, immagino voglia ringraziarmi. Sì, immagino voglia ringraziarmi. Sì, immagino voglia ringraziarmi.